ciao amiche di cucito benvenute in questo nuovo tutorial adesso vi mostro un sistema per rifinire una chiusura lampo una cerniera abbiamo visto nel piedino proprio per decenniare questo tipo di rifinitura vedete che dentro rimane perfettamente pulito però fa questo io lo chiamo difetto ma in questo modo non si può evitare adesso andiamo a vedere invece un sistema che rimane secondo me più pulito vediamo subito come fare allora il piedino che andremo a utilizzare sempre lo stesso quello dell'altro tutorial che io metterò il link giù nell'info box e qui apparirà diciamo come poter raggiungere l'altro tutorial mentre vi dico subito che dobbiamo prendere una cerniera e dobbiamo preparare dei quadratini 4x4 quindi 4 cm x 4 cm e vi spiego subito come andarli a utilizzare noi con ago e filo andiamo a chiudere subito dalla parte dove c'è il cursore quindi da questa parte qui noi andremo a chiudere non deve rimanere vedete aperto così lo dobbiamo andare a chiudere quindi con ago e filo due punti eccolo qui è ben chiuso vedete rimane bloccato adesso prendiamo il nostro quadratino 4x4 lo andiamo a mettere ad un'altezza di due centimetri quindi con un centimetro prendiamo il segno eccolo qui a due centimetri per essere sicuri lo prendiamo anche dall'altra parte così non andiamo storte poi prendiamo il nostro quadrato lo mettiamo sopra e lo fissiamo con gli spilli 1 e 2 adesso andremo sotto macchina e facciamo una cucitura sotto macchina allora eccoci qui adesso mettiamo sotto macchina e il nostro quadratino deve stare a filo piedino ok quindi mettiamo sotto con un punto dritto andremo a fare questa cucitura dopo aver effettuato la cucitura cosa facciamo mandiamo il quadratino verso l'esterno e andiamo sotto macchina e facciamo una ribattitura ecco qui abbassiamo appunto dritto ecco qua abbiamo fatto anche la ribattitura adesso vediamo come procedere allora ecco la nostra cerniera io come vi ho già detto ho detto anche in altri tutorial la cerniera la dovete prendere sempre più lunga di quello che vi serve metterò allineato il quadratino che abbiamo appena fatto al bordo del tessuto lo fisso con uno spillo dopo di che lo vado a vedete allineare per tutto il tessuto e vado con la penna assegnarmi l'estremità del del tessuto quindi non della cerniera ma del tessuto da questo punto che abbiamo appena segnato noi andremo a prendere i due centimetri che avevamo preso anche dall'altra parte appena fatto quindi prendiamo il nostro quadratino lo posizioniamo sui segni dei due centimetri quindi esattamente qui e andremo con la con gli spilli a fissare e andremo praticamente a fare la stessa cosa quindi una passata appunto dritto bordo piedino poi rimettiamo il tessuto verso l'esterno e facciamo una ribattitura sotto macchina eccoci amiche allora abbiamo fatto anche la ribattuta quindi sta a segno vedete del dell'estremità del tessuto che avevamo scelto quindi adesso che cosa facciamo andiamo innanzitutto a tagliare l'eccesso della nostra cerniera poi andremo ad effettuare uno zig zag qui ai lati della chiusura perché questo si fa ascoltate solo quando noi andremo ad utilizzare la cerniera senza foderare il sacchettino mentre se dobbiamo andare anche a mettere la fodera questo passaggio non va effettuato in questo caso io dopo farò un tutorial di seguito a questo e quindi dovete effettuare qui uno zig zag ai due lati sia a destra che a sinistra ok quindi sotto macchina eccoci qua dopo lo zig zag andiamo a rifilare il tessuto quindi lo portiamo alla stessa misura di larghezza della nostra cerniera eccoci qua ed è pronto per andarlo a cucire quindi adesso prepariamo la nostra il nostro sacchettino quindi mettiamo in questo caso non ha un dritto però nel caso voi lo andate a mettere su un tessuto che ha un dritto e un rovescio metteremo il dritto rivolto verso l'alto cioè verso di noi metteremo la cerniera con il cursore sul dritto a filo del tessuto e andiamo a a fissare con le clip o le spille quello che vi trovate meglio voi adesso andiamo sotto macchina eccoci qui sotto macchina andiamo a sostituire il piedino mettiamo il piedino questo delle cerniere ecco l'abbiamo messo e poi andremo a iniziare a cucire quindi con un punto dritto cuciamo non occorre fare avanti e indietro perché tanto qui poi andrà la cucitura del sacchetto ecco qui abbiamo cucito una parte della cerniera adesso andiamo a cucire dall'altra parte vediamo subito come allora prendiamo l'altro pezzo di tessuto metteremo il pezzo quello con la cerniera così col dritto rivolto verso di noi andiamo a piegare la la cerniera così in avanti quindi avremo il dritto sempre in alto poi che cosa facciamo mettiamo l'altro pezzo quindi il dritto sul dritto e lo mettiamo a filo sia qui del del tessuto che a filo della cerniera ok quindi andiamo a ribloccare la nostra cerniera ecco qui e adesso andiamo sotto macchina ad effettuare la cucitura come abbiamo appena fatto eccoci qua allora abbiamo cucito in entrambi i lati della nostra cerniera adesso dobbiamo andare a fare la ribattitura quindi noi andiamo a fissare con gli spilli e passiamo a macchina sia un lato che l'altro sotto macchina allora amiche abbiamo fatto anche la ribattitura ecco qui adesso come in questo caso che non c'è la fodera che cosa si fa si va sul rovescio del nostro lavoro andiamo vedete a separare la cerniera con il tessuto e avendo una doppia cucitura noi possiamo andare a tagliare proprio facendo sempre molta attenzione a ciò che andiamo a tagliare vedete andiamo a tagliare l'eccesso di tessuto in modo tale che rimane vedete pochissimo tessuto e solo la cerniera quindi non vedremo più questa diciamo questo effetto brutto vedete del tessuto ma vedremo solo la cerniera quindi facciamo bene amiche io devo proseguire con un altro progetto però ho voluto uscire qui due pezzetti per farvi vedere girando come viene il lavoro quest'altro modo di cucire la cerniera perché ne vale veramente la pena eccolo qui guardate come rimane bella la cerniera sistemato anche quando aprite se cucite la cerniera rimane un lavoro secondo me molto più bello poi se lo foderate quindi rimane proprio un lavoro meraviglioso vedete non ha nulla a che vedere con quest'altro anche se non è che rimane male è però diciamo che questo dà un tocco in più secondo me quindi io vi strizzo in un forte abbraccio vi invito a guardare subito l'altro tutorial perché è molto molto interessante e condividete i miei tutorial lasciate un messaggio lasciate un commento e vi starò sempre dietro 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 e spero che mi seguiate ciao ciao Grazie a tutti.